Papa Francesco, udienza generale, 5 gennaio 2022, Catechesi su San Giuseppe San Giuseppe, il padre putativo di Gesù Oggi mediteremo su San Giuseppe come padre di Gesù. Gli evangelisti Matteo e Luca lo presentano come padre putativo di Gesù, e non come padre biologico. Matteo lo precisa evitando la formula generò, usata nella genealogia per tutti gli antenati di Gesù, ma lo definisce sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, detto il Cristo. Mentre Luca lo afferma, dicendo che era padre di Gesù come si riteneva, cioè appariva come padre. Per comprendere la paternità putativa o legale di Giuseppe, occorre tenere presente che anticamente in Oriente era molto frequente, più di quanto non sia i nostri giorni, l'istituto dell'adozione. Si pensi al caso comune presso Israele del Levirato, così formulato nel Deuteronomio. Quando uno dei fratelli morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà con uno di fuori, con un estraneo. Suo cognato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere di cognato. Il primo genito che ella metterà al mondo andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele. In altre parole, il genitore di questo figlio è il cognato, ma il padre legale resta il defunto, che attribuisce al neonato tutti i diritti ereditari. Lo scopo di questa legge era duplice, assicurare la discendenza al defunto e la conservazione del patrimonio. Come padre ufficiale di Gesù, Giuseppe esercita il diritto di imporre il nome al figlio, riconoscendolo giuridicamente. Giuridicamente è il padre, ma non generativamente. Non l'ha generato. Anticamente il nome era il compendio dell'identità di una persona. Cambiare il nome significava cambiare se stessi, come nel caso di Abramo, il cui nome Dio cambia in Abram, che significa padre di molti, perché, dice il libro della Genesi, sarà padre di una moltitudine di nazioni. Così per Giacobbe, che viene chiamato Israele, che significa colui che lotta con Dio, perché ha lottato con Dio, per obbligarlo a dargli la benedizione. Ma soprattutto dare il nome a qualcuno o a qualcosa significava affermare la propria autorità su ciò che veniva denominato, come fece Adamo quando conferì un nome a tutti gli animali. Giuseppe sa già che per il figlio di Maria c'è un nome preparato da Dio. Il nome a Gesù lo dà il vero padre di Gesù, Dio, il nome Gesù, che significa il Signore salva, come gli spiega l'angelo. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Questo particolare aspetto della figura di Giuseppe ci permette oggi di fare una riflessione sulla paternità e sulla maternità. E questo, credo che sia molto importante, pensare alla paternità, oggi, perché noi viviamo un'epoca di notoria orfanezza. E' curioso, la nostra civiltà è un po' orfana, e si sente questa orfanezza. Ci aiuti la figura di San Giuseppe a capire come si risolve il senso di orfanezza che oggi ci fa tanto male. Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri. Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. Penso, in modo particolare, a tutti coloro che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell'adozione, che è un atteggiamento così generoso e bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro? E quanti coniugi desiderano essere padri e madri, ma non riescono per motivi biologici? O, pur avendo già dei figli, vogliono condividere l'affetto familiare con chi ne è rimasto privo? Non bisogna avere paura di scegliere la via dell'adozione, di assumere il rischio dell'accoglienza. E oggi, anche con l'orfanezza, c'è un certo egoismo. L'altro giorno parlavo sull'inverno demografico che c'è oggi. La gente non vuole avere figli, o soltanto uno e niente più. E tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri. Ma hanno due cani, due gatti. E sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria, che non ha figli, e, come diceva uno un po' umoristicamente, è ad esso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli. Chi si farà carico di me? Rideva, ma è la verità. Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo, ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c'è la paternità spirituale, per chi si consagra a Dio, e la maternità spirituale. Ma chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che li chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, pensate all'adozione. È un rischio, sì. Avere un figlio sempre un rischio, sia naturale, sia ad adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale, sia la spirituale. Un uomo e una donna, che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore. La testimonianza di una persona, un dottore. Importante il suo mestiere, non avere figli. E con la moglie hanno deciso di adottarne uno. E quando è arrivato il momento, ne hanno offerto loro uno, e hanno detto, ma non sappiamo come andrà la salute di questo. Forse può avere qualche malattia. E lui disse, lo aveva visto, disse, se lei mi avesse domandato questo, prima di entrare, forse avrei detto di no. Ma l'ho visto, me lo porto. Questa è la voglia di essere padre, di essere madre, anche nell'adozione. Non abbiate paura di questo. Prego, perché nessuno si senta privo di un legame di amore paterno. E coloro che sono ammalati di orfanezza, vadano avanti senza questo sentimento così brutto. Possa San Giuseppe esercitare la sua protezione e il suo aiuto sugli orfani, e interceda per le coppie che desiderano avere un figlio. Per questo preghiamo insieme. San Giuseppe, tu che hai amato Gesù con amore di padre, sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia, e desiderano un papà e una mamma. Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli. Aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande. Fa che a nessuno manchi una casa. Un legame, una persona che si prenda cura di lui o di lei, e guarisci l'egoismo di chi si chiuda alla vita, perché spalanchi il cuore all'amore.